I compiti su De Bole con Gratis come al solito, agente speciale sulla stella offensiva degli avversari va subito al tiro, Davide Pessina è morbidissima la sua conclusione in sotteggio per la Benetton inizio per la verità non altissimo in termini di intensità e anche Ferdinando Gentile ha molto spazio Pessina e Davide è partita molto bene 2 su 2 Il ribaltamento di Pessina per Gentile che attacca frontalmente la difesa di Treviso molto esposta La manovra ovvero sia Davide Pessina si allarga Palmer il velo di Fusca per Gentile che scarica ancora per il suo numero 7 il quale va al tiro da 3 punti, molto morbida l'esecuzione, premiato Fusca dal rimbago Ragazzi per Bodiroga c'è Wurridge su Fusca in questa azione, Vianini su Palmer la penetrazione di Gentile contro Naumowski e la schiacciata di Gregor Fusca di Alberti, Flavio Portaluppi, Gentile su quello di Gregor Fusca riceve il passaggio schiacciato per terra, l'aiuto di Gracis, gran lavoro sul piede perno per Gregor Palio il terzo posto e la possibilità piuttosto ambita tutto sommato di evitare la parte di tabellone dominata dai campioni d'Italia in carica della Buckler, Fusca sta... una mossa adesso contro Gentile che trova Bodiroga, possibile 1 contro 1 con Gracis, va al tiro da 3 punti e Deann Bodiroga 2, Flavio, noi due insieme, ok, un coro Rusconi tutto davanti a Paolo Alberti, non riceve, ottimo il pallonetto per Fusca da Nando Gentile rimane nel blocco Orlain, trovare l'aggettivo, per lui questo tiro da 3 ha la stessa percentuale di un sottomano la parola giocatore, compatto, cioè fa tutti i tiri compatte vale intanto il... è un tiro compatto, rapidissimo, tutto con pochi movimenti sbagliati e sprecati, grande prestazione Gentile da 3 immediatamente il marchio del campione Pol che ha lui pure grande impatto sulla gara, prende il rimbalto offensivo Gentile attacca Naumovski, l'aiuto di Rusconi è tardivo segna Gentile, riavvicina Milano a meno oltre, letteralmente via il pallone intercettato da Nando Gentile a tutta velocità Gentile con grande effetto, segna e poi si prende il palleggio De Paul ribalta, è tornato sul terreno di gioco anche Walter Palmer che è trovato subito da Nando Gentile e la Benetton adesso ha proprio...